ciao a tutti oggi prepareremo l'aperitivo al mandarino il tempo di preparazione della ricetta è di circa 3 minuti ingredienti sono mandarini zucchero semolato acqua foglioline di menta e spumante andiamo il via alla ricetta andiamo a inserire nel boccale lo zucchero e lo andiamo a polverizzare per 10 secondi a velocità 10 andiamo un po sul fondo lo zucchero andiamo ad aggiungere i mandarini li andiamo a frullare per 20 secondi a velocità 10 adesso aggiungiamo l'acqua e lo spumante andiamo ad amalgamare per 10 secondi a velocità 5 il nostro aperitivo è pronto andiamola a filtrare aperitivo al mandarino grazie e alla prossima ricetta grazie a tutti grazie a tutti